Faccio un film, Mubarak, siamo qui in un deserto con un cammello che si chiama Gimiendis, giusto? il cammelliere Mubarak, è il cammelliere Mubarak, è l'erg-Shabhi, vicino al Merzougar, c'è tutto il deserto qua, è molto bello, stiamo vedendo forse Inchallah il tramonto, il tramonto nelle dune, che ieri non c'era quel tempo quindi non si è visto Jimmy tutto a posto tutti tutti i luasi i luasi la duna è quasi raggiunta ma non credo che la raggiungerò grazie 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 grazie